Il dottor Giuseppe De Martino è il nuovo responsabile del servizio di elettrofisiologia della clinica mediterranea. A partire dal primo febbraio il servizio di elettrofisiologia della prestigiosa clinica napoletana è affidato agli Aritmology Servisan, il gruppo diretto appunto da Giuseppe De Martino. Alle eccellenze già presenti alla mediterranea nel settore cardiovascolare si unisce dunque oggi un professionista nel settore dell'aritmologia in grado di completare il gruppo potenziando nelle prospettive future sia in ambito clinico che in quello della ricerca scientifica. È per me un grande privilegio assumere questo incarico ha commentato De Martino poiché la clinica mediterranea è da sempre uno dei principali riferimenti sanitari del sud Italia. Sono onorato di poter entrare a far parte della squadra del centro cuore della clinica mediterranea e di poter collaborare con professionisti di elevatissimo spessore e di fama internazionale. Queste le parole del dottor De Martino.